buon pomeriggio a tutti ragazzi e benuno in questo video parleremo del 64esimo episodio di zombie tsunami beh adesso andiamo a vederlo ok buona visione vediamo quale sono le missioni vediamo va bene 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 pareggio va bene tsunami è molto veloce specialmente con l'acqua che ci piove in Egitto altricene dovevo fare ragazzi ma non ci sono arrivato loco è molto veloce è molto veloce è molto veloce ne manca solo una ragazzi è molto veloce è ninja ah e abbiamo completato tutte e tre le missioni in una sola partita che pensa lui niente 1200 2200 2400 la prossima volta va bene all'ultra livello raga l'abbiamo portati beh e il video si può concludere qui ho in mente anche questo bel titolo ok ok beh ragazzi spero che questo video ovviamente di zombie tsunami il 64esimo episodio mmm la nostra prima volta che completiamo tre missioni di fila in una sola partita vi sia piaciuta vi sia piaciuto mettete un bel like su Instagram e noi ci vediamo in un prossimo video ok col 65esimo episodio di zombie tsunami e poi per finire in questo episodio dobbiamo fare altri 5 che arriviamo fino al settantesimo e si inizia con angry dog ok ci vediamo in un prossimo video ok ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.